L'Imoelese riparte da Emanuele Filippini. Il tecnico bresciano, fratello gemello di Antonio con cui compose un inossidabile duo in Serie A, raccoglie dunque l'eredità di Francesco Baldini, con grandissime motivazioni. Mi ha convinto l'ambiente, le persone che ci sono in questa società e quindi ho deciso dal primo momento di venire qua. Ho deciso anche perché è una società che ha ambizione e quindi siccome sono anch'io un ambizioso ho deciso di lavorare insieme a questa società. Il tempo però già stringe. L'Imoelese si presenterà ai blocchi di partenza della nuova stagione con rapidità, quasi immediata. Sempre che nel frattempo non si materializzi anche il ripescaggio in Lega Pro. Si parte presto perché abbiamo il 30 luglio la prima partita ufficiale che è la Coppa Italia contro i professionisti, quindi bisogna partire il 14 luglio. Siamo determinati per fare bene, sappiamo che sarà una stagione difficile ma cerchiamo di farci trovare pronti. Penso che questa società abbia le strutture, la capacità e l'ambizione per poter fare la Lega Pro però non dipende da me, dipende dalla società decidere se un giorno la Lega dovesse chiamare in causa l'Imoelese per un ripescaggio in Lega Pro.